Maltrattava la madre privandola anche del cellulare e usando nei suoi confronti violenza, aggressioni e minacce. Un uomo di 46 anni, Andrea Andolina, è stato arrestato dalla squadra mobile dopo anche alcune segnalazioni che sono arrivate nei giorni scorsi, come quella quando una volante della polizia è arrivata dinnanzi al portone di casa della madre. L'uomo con un coltello minacciava che l'avebbe ammazzata se non lo avesse fatto entrare in casa. Dunque il giudice ha ritenuto tutte sussistenti le esigenze cautelari e la necessità dell'arresto, anche perché probabilmente l'uomo, secondo alcune ipotesi investigative, avrebbe anche convinto la madre a rinunciare o ritinare la denuncia. Dopo gli adempimenti di rito gli agenti lo hanno portato al carcere Malaspina di Caltanissetta.